Limpia, è un trasvergognato, purtroppo è lontano, spero che se non lo trovi. Guarda, guarda Simo, fa di quelle fumate? Si! E' anche triste, come dice Fanno con te, ma io mi interagio, mi interagio, mi interagio volentieri. Guardata, guarda, guardate passa, guardate? La scatola dalua è la volta la mangiagio, non c'è niente cosa, hai direttoli, Grazie.